Ma come pensi di potermi venire ad aiutare se vieni durante un attacco d'ansia e mi dice ah, non ci pensiamo. Che problema tiene tu, ah? Pensi i bambini in Africa, loro sì che hanno problemi. Vederì, sono stato oggettivo. Noi sei stato strunzo. Vorrebbe un'altra stanza disponibile. E va bene, viene domani signora. Va bene signora, mi faccio trovare in casa. Tu mi hai riconosciuto e ti stai chiedendo se sono io, se non sono io. Se ti stai chiedendo se sono io, ti rispondo io. Sì, sono io. Grazie, ma è tutto chiaro. Tic toc! Hanno bussato? Ma che bussato? E comunque sarebbe stato toc toc. Hai ragione. Io intendo tic toc. E caramella, e caramella, e tic toc, e tra che le... Ma buona il tic toc, ma è capitato che... Cioè, uno gli fa un punto e fa una tic toc. Ah, no, hai ragione, io sei tic toc. E tic toc. Poi, soprattutto, è pazza. La signora Pellecchi mi ha detto che questa è stata piena di problemi. E perciò è buona per te! Ce la facciamo una storia? Federico, sono in quei giorni. Eh? Ho le mie cose! E tiene le sue borse! Ha da mettere la borse! E nella stanza che è in un cesso, Federico!